Parlo con Radio Boomer? Sì, Radio Boomer, Radio tua sorella! E il signor Adolfo, Adolfo Cruciani? Perché qua c'è scritto chili e qualitri? Ah, due pesi e due misure! Ti rendi conto, Green, che le donne escono con te e ti si incurano solamente perché hai 8, 10, 15, 20 mila più sa? E non perché veramente gli ferite sono interessate solamente alla fama Eh, vabbè, Matteo, cosa dobbiamo fare? Ho la fame! Prima di fare lo streamer, quante donne c'avevi? Sto qui con Rubino, ragazzi si sta preparando per il match contro il Gabbrone di questa domenica Commenti a freddo sul match di domenica? Io te la domando sempre che è la mia buccia e poi ti conviene preparato Allora, chiamo 7,5, ho rifuso 1,0, vado col gel Primo allenamento con Rubino è andato, domani secondo, dopo domani terzo e poi si combattono. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivà! Hello, Closhaurs e benvenuti in questa nuova trasmissione! Ciao Lucia Roma, buon pomeriggio anche a lei nonna! Buon pomeriggio a te, bella Mirk, che dichi? Si è fatto il capello il Chitano, che figo! Che si dice in quel di Dubai? Tutto bene, tutto bene, ho messo la telecamera sull'altro terratto. Ma è sera, è bello, c'è l'atmosfera in stanza bella, pure la luce, mi piace, mi piace. Lo sfondo, non ne parliamo comunque. Voi che dite ragazzi? Guardate il capello nuovo del Chitano, metti un attimo. E' vero, si è fatto il capello. Il capello nuovo del Chitano non è content. Lo sapevo. E' sfumatura. Si vede poco, si vede poco. Sta molto meglio. Ci sta, ci piace, ci piace. Barba pure, bella precisa. Ah, ti pure la barba ha sistemato. Io non so, abitato, faccio tutto a... metto dopo a uno... No, bello preciso. Bello fresh, come dicono i giovani. E' un attento di sopracciglia quando fai così. Eh, ma ti è mai successo delle vatte qualche... No, vabbè, passo qua. Noi nella scena mi sono sbagliato. Però passo laterale, ecco. Allora ragazzi, c'è una denuncia pubblica da parte di un personaggio che conosciamo molto bene. Vabbè, molto. Che conosciamo bene. Conosciamo. Fede Rossi. Sì. Ah, ok. Pensavo Matteo HS. No, 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 no. Nessun tipo di denuncia da parte di Matteo. Io non ci ho mai interagito, se non erro, giusto? No. Non voglio confondermi. No, 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 no. Direttamente no. Insomma, un fatto molto grave. Ha fatto le live con voi? Fede Rossi, no. Ah, ok. Nessuno di noi ci ha mai interagito. Non mi ricordo. È stato al cerbero. Questo sto chiedendo. No, mai stato al cerbero, però è stato... Esatto. Quando è venuto ospite Paniccia. Sì, e poi la roba dei Rolex, te la ricordi? Sì, sì, Paniccia. E poi era uscito fuori. Quando cazzo arriva questo, mi ricordo. Esatto, esatto. Vabbè, che schifo. Questo è un video sfogo. È indignato per qualcosa. È indignato per qualcosa. È da una collanina in mano. Diciamo che che schifo. Già parte bene. Sì, 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 sì. Ho visto già che scrivete dubbi, Flemme e Chitano quando mi chiedete scusa. Ah, beh, ricordiamo. L'abbiamo detto nella live di ieri. Aspetta, aspetta, aspetta. È incazzato come una bestia. Per chi si può fare due risate e sta al voto. A PlayCherber. Io lo vedo così perché mi sono divertito tantissimo. Secondo me si è incazzato anche troppo e sicuramente ti passerà entro un paio di giorni. Dai, Don Vito, che è successo? Che è successo? Stavamo a PlayCherber, giocando a Sons of the Forest. Vi racconto proprio la cosa cronologicamente perché pure Chitano mi ha aiutato a rimembrare ieri sera. Don Vito, a una certa, ha iniziato a tirare granate su noi, ha iniziato a romper cazzo in game. Che ci sta a far ride, no? Poi a una certa, pure c'eravamo innervositi, abbiamo iniziato a prenderlo ad accettate nel gioco. Poi ovviamente la scissione gioco-vita reale lì è venuta meno e quindi ad ogni accettate io sentivo anche un... Te volevano esili a te, poi volevano esili a lui. Sì, prima volevano esili a me. Anzi, è il miglior intrattenitore di Twitch Italia. Che ci sia. Che ci sia. Anche meglio di te, ho detto. E lì, Don Vito... Vabbè, sotto in te. E lì è iniziato a insultare. Don Vito lì ha perso proprio il lume e ha iniziato... C'è il contributo. Vogliamo vederlo? Il contributo? Ah, ma già ce lo vediamo. Ce lo vediamo. Ce l'hanno tributato. Comunque ha detto, no, prima Flame, poi Chitano. Ok, ma in quest'ordine, in quest'ordine. Non ti ho fatto niente. Fatemi dire una cosa. Abbiamo già chiesto scusa durante la live stessa. Cioè, abbiamo detto, dai, ci dispiace, Don Vito. Siamo di torna, torna. Torna, Don Vito. Dopo tipo 5 minuti che sei uscito. Dai, ci dispiace. Stavo mascherato. No, ma io voglio dire una cosa. No, no, non vito. Già l'avevo detto l'altra volta. Basta con questo dissing inutile tra due fratellini nostri. È avvelenato. Nostri? Eh. Perché? Se dici così è peggio quasi. Nostri! Dobbiamo. Ovviamente voglio più bene a Don Vito, però nel senso, dai, chiaritevi. Ha ragione di Danalea. Non penso ci sia un problema insormontabile. Basta, io lo dico da mesi. Dobbiamo fare una live conciliatoria. Non è possibile. Non è possibile. Anche fuori dalle live. Ho capito quanto fuori dalle live questi si eseminano. Non esistono, dici. No, ma parlate un attimo. Starei meglio anche tu, Don Vito. Mi fate entrare su Discord. Entra, dai. Sentiamo la versione di Vito. Però c'è pure White Alpha. Facciamo entrare pure White Alpha adesso. Vai. Insanto possiamo far vedere questo a chi non c'era. Però io vi avviso. Vediamo prima questo. No trashate, no teatrini, sennò butto fuori tutte e due. Una cosa, c'è il titano che è rigidissimo oggi con Discord. Già me l'ha detto prima, se mai entra Don Vito e White Alpha sono rigidissimo. Stiamo parlando del nulla, dai su. Capisco lo scazzo e nella fatti specie ha perfettamente ragione Don Vito tra l'altro. Ma infatti io lo disse ai tempi che White Alpha si comportò non bene. Poi non ho seguito la vicenda perché la reputo grottesca. Però basta, dai. Ma perché dovete rovinare un bel clima che c'è? Siamo tutti amici. Io dico, anche in vista di eventi futuri che ci coinvolgeranno tutti, è giusto levare questa alone così, questa nemesi inutile. Basta. White Alpha ci dice, io eviterei, lo dico per voi. Per poi arrivare a quello che abbiamo detto anche a Plecerbero, cioè che ai Boscar si stringeranno la mano sul palco. E voglio ribadire, è una premonizione alla CEO questa, che cazzo. Io l'ho detta, però Vito si è incazzato un botto, se ricordi, dopo questa frase. Spero che l'hanno inserita. E' una cosa che l'ha fatta esplode poco prima dell'esplosione totale. Potrei ripeterlo anche oggi, però spero che Don Vito non abbia la stessa reazione, insomma. Vabbè, vediamo prima il contributo, poi sentiamo un attimo Vito, dai. Poi vediamo Fede Rossi. Ah, domani alle 15, live pesante S con Max su una cosa molto greve di pedofilia in Thailandia. Comunque, prima di iniziare, dipende molto calcolato il livello di tolleranza che hanno le persone. Perché tipo io, tantissimo, anche Don Vito spessissimo ha detto le peggio cose. Però non mi arrabbio. Poi c'è questa gente che si incazza molto più facilmente e ti fa sembrare magari un bullo. Mo vedrete. Avremmo detto una battuta, Don Vito. No, no, ragazzi, non c'entra nulla tanto. Voi non capisco. Ragazzi, fatemi una foto. Mi faccio un'armatura completa di pellet. De pellet, come Don Vito. Eh, qua pellet. Era perché quella cosa che hai detto pure prima. Sì, sì, con White Alph. Nella sigla c'era, nella sigla. Sì, perché lui diceva, però con un giubbotto di pellet. Io ho fatto qualcosa. Ma in che senso con un giubbotto di pellet? E lui già là sarei incazzato. Sta durante la sigla. Ma che cos'è il pellet? Io non lo so veramente. A me fa ride... I conigli di scaldà che si usano. Simi il legno. A me fa ride proprio il nome. Un giubbotto di parole. Che poi per altro è quello che uso. Pure per Kiki. Perché dai, i conigli si mette sotto per i bisogni. Che assorbe. E poi lo cambia. Un po' tipo la lettiera. Se potrebbe fare un vestito. Comunque, dai, hai fatto un layout vergognoso, eh. Ma che è sta cosa? A me fa ride sta parola. Ma che è sta cosa? A bigocca tutta fuori, vabbè. Vabbè. Ma l'audio è giusto per voi, ragazzi? Con il letto audio basso. Quello della reaction, intendo, eh. Bello dai, non dire minchiate. Io ho detto che quando verrò il posto al vero col giubbotto di pelle. Tu hai detto. Allora, però è stato già... È stato... Però ragazzi, buoni un attimo. È stato già messo a copione che tu verrai con il giubbotto di pelle e chiederai scusa a White Alps stringendogli la mano. Cerca di far venire gli ospiti all'orario giusto, si vuole. Ma fa un'altra cosa adesso, ragazzi. Ma che è successo? No, no, scusa, scusa. Ma che è successo? Hai fatto l'out bellissimo. Dai, andiamo avanti. Io stavo giocando, non mi potevo mettere al sistema. Hai ragione, hai già. Sei entrati a 9 e 5. Hai ragione. Scusa White Alps stringendogli la mano. Hai nominato quella merda. Quella cosa non la faccio, io esco. Ciao. È stato scritto questo a copione. No, Domito. È stato scritto questo nel copione dei posti. Non mi vado a nominare quella merda, eccetera, eccetera. No, io esco, ciao e niente. Domito, se te ne vai non torni più, perché qua ci fanno tutte le scene. Le popate. Io leghi auto, c'è questa magia. Cosa cazzo ancora lì? Vaffanculo. Ma perché ci sono due chitano? Dove? No, quello è Naps. New Entry. Qual è Marco dei due? New Entry nel Cerbero Universe. Qual è Marco? Un dubbio che c'era un dubbio eye out, per sbaglio. Il Metaverse. È il Copicat. È Naps. Un grande Naps. Si chiama Naps? Naps. Conosciuto per caso. Non so se ho raccontato, ma l'ho già raccontato in live. Lo conosco, simpatico? Sì, sì, molto, molto, molto. Gioca appunto a questo gioco. No, io d'accordo. Sì. Stream dalla quarantena, peccazzi suoi, c'è il suo pubblico che gioca. Solo gaming? L'ho visto io, just chatting, gaming, peccato per caso. Io ho scritto in chat, ci ho giocato insieme e poi abbiamo rinnovato per PlayCerber ed è venuto. Ma sì, poi c'è De Roma, quindi è facile. Entra nella nostra cerchia di default. Ma sì, entra pure all'ubus. Top. Bello, vedi, è fatto che inizia nella foresta. Ma che è successo? Non ho capito un cazzo. Gatti su Pesta. Mi ha menzionato ed Alfa e se n'è andato come un bambino, mannaggia. Vito torna dentro, non faccia il coglione. Ah, se n'era già andato. No, dovete smettere di nominare quella merda. Vito. Vito. Solo perché avevo detto il nome di quella merda. Per favore. Andiamo, Abi. Ho mutato, l'ho mutato. No, 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 no. Ma dai. Sono un professionista, ci aspettiamo. Situazioni poco rispettose verso colleghi con la partner, veramente che non ho parole. Ma poi è un pro-gamer, da un pro-gamer non me l'aspettavo. Non posso offendere persone veramente nel 2023. Penso che ancora la faccia ridere, no? Bah. Che c'è. Ma poi è meno. Diciamo che sembra una reazione oltremodo eccessiva. La figa, la figa. No, addirittura... Cioè, poi... Io stavo anche pensando, ma magari staffa e personaggio, perché è veramente troppo eccessivo, addirittura... Più che altro perché... Cioè, non è che l'avete messo in mezzo con battute cose. Cioè, semplicemente... Pellet... Cazzate. Che non riguardava lui è una cosa semplicemente... Cazzate. Cazzate. No, ma il fatto della stretta di mano più del pelle. Verbale... No, è appunto la roba dei White Alph, ma... Ma non penso di aver detto niente di male. Ma no, tu stavi... Poi per chi mi ha detto eh che lo muti... Vabbè, tre volte è merda. Comunque se stavo incazzato sempre di più, ho detto fammelo mutà. Infatti poi dopo dieci minuti ha detto cose ben peggiori e lì l'ho rimutato un'altra volta. Spiega pure dalla partita scorsa perché abbiamo preso sta decisione. Vabbè, certo. Diciamo che... Vabbè, non so. Spiega tesi. È una tempesta in piedi. Vabbè, abbiamo preso la precauzione di mutare Vito se diventava molesto come la live scorsa. Andatevela a vedere. In certi punti... Non si poteva parlare perché non parlava di qualunque cosa. Manetta, siamo contenti. Era commentato. Prima della live gliel'abbiamo detto, guarda Vito, se esageri ti muteremo. Le ho detto ok. E' partito che stava tranquillo. Sì, sì, sì. Tranquillo. Poi una certa... Ha sbroccato. C'erano troppe donne secondo me. Che ne so. Una botta d'energia. Poi adesso lo facciamo entrare e ci spiegherà tranquillamente. Dai, ragazzi. Vediamo. Don Vito vevi veramente una bassezza. Don Vito, ora ti facciamo entrare tranquillo. Era solo per contestualizzare. Prima vediamo il video. Ma anche perché io non ho visto sostanzialmente. E' il messaggio. Poi ci dissociamo. Le frecce. Ero pieno. Confronti di un partner rispettoso. Aspetta che gli tiro la monota. Aspetta che voglio smutare un attimo Vito perché mi sembra che voglia dire qualcosa. Che è Vito? Ancora? Sono rientrato, a meno così potete sopravvivere. Bravo. Dai, Vito. Uno di noi. Qua ho pensato sta a fare content. E va tutto bene. Ma ero pure tranquillizzato, no? Uno di noi. Uno di noi. Occhio che fa la situazione. Ma pure io tengo la molota. Quindi pure calcolare lo stato di stress. Mustri che arrivano da tutti i partiti. No, certo. C'era il mostrofregna che ci dava su questo. Perché si offendeva te una cosa e ti dava accettate. Perché se ero offeso che tu prima mi hai tirato una freccia. Vabbè, non ho fatto apposta. E ti tirava una granata, poi ammazzata. Sì, vabbè. Quelle sono scaramucce in game che a me mi fanno tagliare. Cioè, secondo me era divertente. Però ho diventato pure una certa. Sì, poi ti fai nervosire. La donna è morta perché ha tirato l'ennesima granata e si è buggata. Siamo dovuti andare alla ripiave, un casino. Lì un pochino mi ero nervoso. Io devo dire. Vabbè. Anche off-game. Magari so io. Un cazzo di cyberbullo. Bullo per cose gravi che mi ha fatto. Con prove su prodi. Cyberbullo perché mai. Tutti i bulli. Tutti i bulli. Tutti i bulli. Eh sì, vai. Guarda qua. Qua ero io. E qua che tilto. Ero io. Cioè, tu immagina. Allora, io mi sono preparato per entrare lì all'interno con sette armature mostruose. Davide, sai come si ottengono le armature mostruose? Eh? Uccidendo dei mostri della Madonna come il mostro figa che ci terrorizza. Intuibile in effetti. Oh, Dio bello. Mi sono tutto preparato. Stavo là tutto così e mi sono tenuto dietro perché dico questi. Io avevo più paura di loro che dei mostri perché gli andavano insai addosso con l'accetta e semenavano tra loro. E ti ha ucciso Don Vito che era... No, Chitano! Allora, certo, io mi incinocchio perché mi stavo preparando le armi. Tu volevi uccidere Vito. Che volevi fare tu? Allora, io ho visto Don Vito. Allora, io ho visto Don Vito. Mi vedo un filo di vita così. Le armature scoppiate? Io non mi ricordo che ho detto, però mi sono cazzato una città. Io e Don Vito che passa. Più la pistola. Me arcio. Lo vedo con uno che si piega. Ero convinto che era Don Vito. Vado e la faccio in secolazione. E invece spari in testa a Gianluca. Ero io! Scusate, ma non stavate tutti in squadra insieme? Sì! Stavamo andando a ammazzare i mostri. Allora, perché l'hai fatto? Tu l'hai ucciso. Perché ti aveva ucciso? Non stavate in squadra insieme? Eh, però non so. Era partita questa cosa di faida amiche. Così imparati ha detto Don Vito. Era una faida tra amici. Poi pure così mi ha detto, ma così impari a giocare. Allora, vabbè. Ho detto, ma lo faccio. Io spero che abbiano tagliato la mia reazione. Perché mi ricordo solo che mi sei tappato la vena tipo per 10-15 secondi. Poi mi sono rinunciato. Gianluca, sei ritrovato sparato in testa. Scusa io, è perché lo sai meglio di me. Quando giochi e magari ci hai messo un'ora e mezza per fare quelle sette armature. Diciamo che un po' te ce l'ho del culo. Mettiamola così. Sì, non è che me ne frega un cazzo. Però a me ce l'ho del culo. Poi te passa, però te ce l'ho del culo lì. Ero convintissimo. Poi su prove di quel depensante. No, ma era Gianluca. Ma chi è che mi ha levato tutta l'armatura e quasi ucciso? Ma questa è follia. Vinci follia! No, vinci. Uno più rincogliorito dell'altro. È risata malefica. Tutta colpa dei chitano comunque. Uno più rincogliorito. Il vero villain è chitano. La vera del rincoglionito. Sì. Aspetta, ripetendo. È stato bellissimo. Non capivo perché. La vera del rincoglionito oggi. Questa non era una. Così imparate a fare le teste di cazzo. Cretini. Così imparate a fare le teste di cazzo. Cretini. C'ha ragione Vito qua. Io lo voglio intrattenere. Non so di me. C'ha ragione insultati. No, no. Allora, prego. È l'ora che ci insultare. Porco Dio. Abbiamo fatto una battuta e siamo burli. Ma che è davvero? Ma che siamo diventati? No, tanto, è il discorso... E' il discorso che stavo credo a fare ieri su quell'altra cosa, quell'altro. Eh, ho capito. Ma io non sono troppo d'accordo. Io sono uno dei più tranquilli, però fino a una certa. Certo. Basta mezzo secondo, capisci? Uno si sta divertì e poi diventa... Capito? Ma una battuta. Certo. Appunto uno deve risolvere e comunicare e parlare. Poi, in questo caso, ho maggior ragione. C'è il rapporto d'amicizia con Vito, no? Cioè, è proprio un nostro amico che conosciamo ormai dal 2018, tu pure da prima. Sì, sì. Ma io mi riferisco appunto a quello che sta a scrivere la chat, no? Bulletti, Bulletti, perché appunto... Però c'è... Il discorso di ieri... Io aspetto che entri Vito così ci spiego. Sì, appunto. Alla fine bisogna parlare. Alla fine bisogna parlare. Non sto capendo... Cioè, l'escalation... C'ha ragione. L'escalation è in ora che Vito ci tirava granate e ci ammazzava... No, ma l'escalation sua, perché voi mica avessete incazzati, ne avete fatto niente. Io lo so di essere il primo e sono stato il primo in tante di quelle situazioni che mi hanno anche portato a essere denunciato. E' per questo che ne parlo con tanta serenità, perché so di cosa sto parlando. Ne parli con serenità, se dici io non ho fatto nulla voi siete i bulli ovviamente ovunque. No, vabbè, in questo caso io non ho fatto niente. Eh, per quello magari ti senti sereno. Ma è un concetto che vale pure per me quando mi sono comportato in determinati modi. Ma lo so. Però nel senso, se stiamo a scherzare, stiamo a giocare, lui si è offeso, ci dispiace. Esatto. Io pure mi potevo allora offendere all'ennesima granata o a Sencoione, comunista, tutti insulti negli anni da quando lo conosco. A voglia. Non mi sono mai offeso. Però ho capito, è lui che si è offeso, è lui che ha resquittato e quindi il pubblico si fa un'idea. Eh, io dico, mi dispiace, più che di che mi dispiace, che devo dire? Sono un bullo, sarò un bullo. Sono stato in questa situazione, ci sto perennemente in questa situazione. Ho capito, però nel senso c'è una bella differenza dall'essere bulli. A voglia. A voglia. Ma certo. Nessuno di noi lo è, ovvio. Forca troia. Ma che c'è, se noi siamo i bulli è la fine del mondo proprio. Ma nel senso... Però è pubblico, se fa l'idea è sua, purtroppo lo sappiamo. No, Moccia non accetta, ragazzi, non esageriamo. Allora, siete dei figli di puttana vi odio. No, 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 basta, basta, basta. Puttana vi odio. Cioè, no. Sta sbroccando. Eh no, voglia. Ma hai capito, ma... Aspetta. È assurdo come reazione, no? Un rapportatore è una reazione nostra. Però io leggerei i commenti di sto freebooting, ad esempio. E lo so, raga, scusate, perché tutta quella rabbia che ho sfogato... Perché per me dai, in modo di un viso si può sfogarmelo. Perché non devi fatta incazzare? Ma noi! No, ehi! Allora, io no, prendermene, vado e non gioco più con voi. No, no, no! Mi sembra di tornare a fare il fantasy modificato. Oh! E sono andato in depressione e mi sono pure incazzato. Sono stato male per un anno e mezzo per colpa sua e degli amichetti suoi. Parlando di Whitealf qui. Eh, mo Vito vuole far passare... Ah, esatto. Don Vito sta a fare st'operazione su Whitealf, lo vuole far passare per Bullo. Io non lo so quello che è successo tra Whitealf e Don Vito. Dice che è stato male per un anno e mezzo per colpa sua. C'ha avuto problemi psicologici, queste cose lui dice, però... Io non ho mai capito che cazzo è successo. Eh, la verità è questa, non ci ho mai capito un cazzo. Ma Whitealf rischia di passare per Bullo, per questa storia che a mio avviso appunto non ha senso di esistere. Cerchiamo di capire, magari lui c'ha un'altra soglia che si offende facilmente, poi mi dispiace che si offese e ti chiedo scusa Don Vito. Però capiamo, non è che pure Whitealf è un mostro, non credo. Appunto, neanche io lo credo, quindi mi sembra assurdo, no? Che uno ha una tolleranza che si arrabbia proprio tutti i soccattivi, ma non lo so. Mi sembra un po' così perché lui ci trovo io di mezza. Risame di sto cazzo, sai che cazzo mi ha fatto lui, sì o no? No, non lo sappiamo Don Vito, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Esatto. Le devo dire la sincera verità. Bulli che c'è il bullismo. C'è il bullismo che era pure offeso. E voi che gli date che pure... Posso confermare? Che tranquillamente, mentre era stato bannato, c'ho pure le prove, lui aveva creato account mentre era bannato ed è venuto sul mio canale addirittura con un altro profilo ancora mentre gli avevo bannato il primo account, il secondo account che si era creato perché non volevo avere problemi miei su Twitch, mi è venuto a offendere pure. Con un altro account mentre era ancora bannato. Sei sicuro? Hai le prove, porco Dio! Hai le prove, ma comunicale a Twitch se fosse vero farebbero qualcosa. Ma secondo me a Twitch ogni volta segnalo gente che mi fa del male e non fa quasi un cazzo Twitch. Mannaggia. Va bene. Comunque, ci sono delle sedi apposite, Don Vito. Questo è Play Cerbero? Eh sì, non lo voglio. Esatto. Tra l'altro non è scontato usare Play Cerbero per lanciare queste accuse contro altra gente. Cioè, comunque intacca il prodotto, se così possiamo dire, il format. Quindi, comunque, pure rivedendolo è una situazione da chiarificare, come minimo da chiarire, chiarificare il burro. No? Davide che ne pensi? È accaduto a Play Cerbero. Penso che, sì, ovviamente non sia la sede giusta, però voglio parlare un attimo con Vito, voglio capire una cosa in primis. Poi vi dico quella mia. Sicuramente non mi sembra sia successo nulla di grave da sta clip. Cioè, muo addirittura nominare una persona, cioè, non può suscitare un'escalation del genere, però aspettiamo un attimo. Poi vi dico la cosa, io ho detto White Alph. Poi c'è la destra, regà, me sai. No, mi dispiace, ma non gioco più con voi. Comunque è un grande intrattenitore, White Alph. Anche un bel fisico. Ti ho detto White Alph, anche un bel fisico. Ti ho detto un'intrattenitore di tua sorella intrattenitore. Beh, ho capito, te mi vuoi dire, figlio di puttana io posso dire White Alph è un grande intrattenitore. Sì, vabbè, è andato a fare in culo tutti i quali. che comunque anche gli addominali meglio non mi vedrete mai più tengo una tessera in mano io tengo una tessera in mano Arnold Crano non si arrabbi così è chiaro che scherzavi Marco non ti devi giustificare che neanche passi il messaggio che ci dobbiamo giustificare per ogni cosa che diciamo anche questo basta è follia pure sta cosa che per qualsiasi battuta io debba leggere in giro loro sono quelli avete rotto il cazzo non funziona così analizziamo le cose ripeto parliamo di una persona nostra amica con un rapporto di un certo tipo poi l'ha presa male non ho capito perché adesso glielo chiederei però la tessera è di una persona non esageriamo neanche perché sennò qui a questo punto veramente non parliamo più non parliamo più basta veramente sul serio lo dico mi sono anche un po' rotto i coglioni di questa storia perché qualsiasi cosa può suscitare una reazione scomposta allora basta cioè io devo dire che sono tutti grandissimi intrattenitori faccio un esempio parlando di colleghi oppure una vicenda no non posso fare una critica un po' piccantella va bene ripeto lui è il nostro amico quindi è un attimo uno chiarisce io ieri ci ho parlato ovviamente anche in privato ma non ho ben capito la dinamica ha detto che vuole entrare per spiegare è anche giusto che voi pubblico capiate un po' sta scena va spiegata secondo me però Lulo Cerbero è again uno ha scritto vedi si è 95 che devi fare si scrivono tante cose manco l'avevo letto ieri ho letto ieri centinaia o migliaia di persone poi leggete tutto oppure cose ridicoli voi ridicoli lui allora tutti ridicoli va bene così uno la prende al posto io perché sono poco responsabile io ho una chitarra guarda Anna si muova va la chitarra stai vendendo il diritto di poter stuzzicare una persona ovvio assolutamente sì a maggior ragione sei un mio amico ovvio ovvio stuzzicare ma stiamo scherzando stiamo scherzando allora va bene con questo principio io dovrei andare ogni giorno in procura visto che me ne dicono di ogni costantemente allora facciamo così posso dire una cosa ma no per niente io voglio bene a Don Vito però Don Vito è uno che mi ha scritto quando è andato al potere la Meloni e ora che c'è il potere la Meloni spero che ti arrestano davvero sì sì me lo ricordo santo è Dio ma me ti voglio bene ma come gli viene a te sì sì me lo ricordo greve te voglio comunque e bene però santo Dio è greve poi se uno voglia una certa ti provoca t'ha solo provocato non è niente santo cielo a me per una cosa del genere in tempo ti reagivo male pure se eri un amico no 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 ma davvero oh vabbè davvero chitano bullo lo faccio io no 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 non ce lo faccia vedere se uno ti minaccia spero che va in galera porco Dio ma che cazzo d'amico sei scherzavo scherzavo giustamente poi è finita nello scherzo però fino qua stavo a fare una battuta regà è un amico se scherza poi sei offeso mi dispiace Don Vito ti voglio bene che te devo dire vabbè ma c'è tutta la vena fuori Marco no perché no mi sono arrasato le vedete di più ah è per quello ma ho già aperto la porta vabbè ah ok basta una volta era questa porta qui a destra questa qua regà c'è la chitarra sul bar se la volete sopra il bar qua adesso io avrò fatto bullismo anch'io dove sto io santo cielo con un bull non lo vedo il bullismo non ti rende forte è perché l'ho già presa dovrebbe stare qua sul bancone sì sì è qua il bullismo non ti rende forte è wide out finisce così vai facciamo entrare Vito al buro vai ci siamo su Discord poi se c'è pure wide se vuole entrare eh sì ecco pure perché se no qua Vito mi perdoni grazie Ciro ciao Vito ecco Vito sapete che non la prendo molto alla leggera ma perché ho aspetta Vito aspetta aspetta scusa Vito perdonaci ripeti Vito ho detto in primis chiedo scuse per quello che è successo ieri però sapete che se nominate un tizio che non ha buoni rapporti non è che proprio me la cioè me la prendo alla leggera sì ma qui siamo per per chiarire questa situazione Vito adesso basta vabbè comunque ci dispiace pure a noi ci dispiace ovviamente però il problema è proprio di fondo ormai cioè perché non si può andare avanti che ogni volta è così l'argomento esce fuori pure per colpa tua spesso e volentieri ma pure perché oltre che stavamo in live noi c'è da tenere conto che ci stavano in live altre due barra tre persone avete nominato cortizio gli avete fatto fare pubblicità a quel tizio al nuovo ospite che stava cazzo non mi sono spammato io che stavo in nuovo ospite nominato a questo tizio che vabbè Vito però questo non è che lo devi decidere tu cioè nel senso eh sì ma porca misera nel senso cioè sono stato rispettoso in chat cioè in live fino a un certo punto ma 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 che c'entra sta cosa non ho capito ma saranno liberi di spammare un nuovo ragazzo che hanno conosciuto cioè qual è il problema no non hai capito e dagli come al solito ho detto marra è stato nominato il bullo di Tucci Italia io lo chiamo così perché non riesco a nominarlo per quello che mi ha fatto è una cosa grave il bullo di Tucci Italia E stava in live anche un tizio nuovo Quel tizio nuovo Ora nella sua chat Ha sentito i nomi di quel tizio là De Bolipic Italia E non il mio Non mi sono spammato io Devo spammare i nomi di suo tizio qua Vabbè Vito però Ma comunque fai dei discorsi Che mi metti in difficoltà Perché io non so Facciamo un attimo Una precisazione Allora A me sinceramente non va neanche Di entrare nelle vostre dinamiche Vostre intendo te e Whitealf Tanto se hai capito Tu non hai intenzione di chiarire E non posso neanche obbligarti Mi dispiace Vai Cioè io non ho intenzione di chiarire Ho pur parlato in privato Però non è che vuole proprio capirlo Cioè nel senso Tutto ora ammette di non aver fatto nulla Con prove su prove Vabbè Io cioè Me ne dispiaccio di questo Perché può capitare In futuro anche di Fare degli eventi In cui ci siete tutti e due Esatto Delle cose del genere Lo stavo per dire io A luce di ciò Se non volete chiarire Non verrete invitati Entrambi Poi noi Ovviamente rispettiamo Le vostre scelte Non è che Te devo obbligare Evito a far pace Però Al di là di questo Io non ero presente ieri Quindi non so benissimo Finisco solo una cosa Non so benissimo le dinamiche Però Se vedo comunque uno scenario In cui un gruppo di amici Si diverte ad un gioco Penso che sia tollerabile Anche un po' Il cazzeggio La presa in giro È un ambiente Coliardico Tra persone che si conoscono E se vogliono bene Quindi una reazione del genere Per aver nominato White half In maniera scherzosa Secondo me È un po' eccessiva Alla fine Perché dobbiamo rovinare I rapporti Tra di noi Si scherziamo Alla fine Poi Se tu rimani della tua idea White half rimane della sua idea Pace Insomma Non vi chiarirete Non è neanche un obbligo Sono scelte vostre Di vita Ho detto White half Se vuole Entra E Spiegare la situazione Perché io Io non ho molta voglia Però ok No perché io Penso di Essere un po' stufato Di questa storia Perché se tu nomini Una persona E tornano fuori Tutti degli escursus Che sono durati Un anno e mezzo Che non si sono capiti No cerchiamo di Di Metterci luce Insomma Perché tu parli De prove Parli di tante cose Ma non si è mai capito Un cazzo Ma una cosa seria Non è che muo entra Come tu tu Bissò Che vuole fare una cosa Un po' Goliardica Per fare content No no Ma lo impedirò io Don Vito Stai tranquillo Non ho proprio Non ho proprio voglia Non ci sarà alcun cringe In questa live Ok E ora è entrato Un altro dizio Che non c'entra nulla Con questa storia Ma vabbè Che sento io Che c'è Ciao Riccardo Riccardo Vabbè Non mi da problemi Perché io sono amico Pure con Con il cringe E pure simpatico E gli voglio bene Però Tanto stiamo aspettando White half Non è che No l'ho letto No l'ho letto prima In chat Bene E voi Beh oddio Un trionfo Ieri pomeriggio Stavo bene Poi vabbè E voi tre O quattro Un trionfo Un trionfo Un trionfo Ho visto White half Mi ha atteso A domande Chitano si sposta Ok Non c'è un dubbio Chitano si sposta Grazie mille Grazie mille Ciao White È mutato Non ci sente Chivate la webcam Presidente Non ci sente Non vedo più È mutato Sì Ciao Ciao White Ciao Ciao Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon 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 Bene Bene Allora Io vi do cinque minuti Chiariamo per favore Una volta per tutte Questa storia E poi Basta Cioè non voglio più Sentir parlare Di questa stronzata Ma Posso dire Cioè nel senso che Per quanto mi riguarda Cioè io ve l'ho detto Anzi Cioè Far questa cosa qua Secondo me Risolverà poco Io Eh no Ma solo tu Al mondo Effettivamente Puoi risolverla Secondo me Ma io voglio capire una cosa Ma come mai Si parla Cioè a te Tu e Don Vito A te Io vorrei saperlo Davido Ma in modi proprio Riassuntivi Perché a te Ti è stata messa addosso Una carica Che è quella Cito Don Vito Il bullo di Vic Italia Se parla di Don Vito Che è stato Un anno e mezzo Male Che non usciva In cure A depressione Quello che hai detto Ok Spiegaci Cosa è accaduto Cosa ha fatto Costui Ok In brevemente Un po' difficile Però cerco di farla Era il 2020 Quando inizio gennaio Quindi prima del 6 Quindi proprio I primi giorni gennaio Stavo giocando A Airston Vabbè Alla fine La solita battuta Non sai giocare Vabbè Io essendo che sono Una persona buona Lo sbanno Alla fine Iniziamo ad essere amici Dopo una certa Di qua Di là E tante altre cose La cosa più grave Che mi ha fatto E non è tanto Che a volte I suoi fan Suoi amici Che erano I miei mod Perché se li toglievi I mod Succederà A Sheastorm Nella mia chat E mi partivano Gli offese Mi è capitato spesso Che lui Però non diceva Eh ma non c'entro io Colpa dei miei fan Però poi gli altri C'entrano qualcosa Nel senso Quando è lui Non c'entra mai nulla La sua fan base Quando sono gli altri Ma vabbè C'entrano qualcosa E in poche parole Mi bannavano la chat Per gente in chat A casa Che non mi ha fatto nulla Perché spesso Mi è capitato Di non voler andare Nei salottini Di questo qua Cioè nel senso Immaginate Già da là Iniziava a darmi Fa stito Situazioni Ho detto Mi puoi Puoi dire ai tuoi amichetti Di smetti di rompire Mi scatto Se io non voglio venire in live da te Non voglio venire La cosa successe anche con noi Che noi non avevamo colpa In realtà Don Vito Ti ricordi? Quando? Che era successo? Permettemi in mezzo Magari perché potrebbe addolcire la situazione Cioè pure io Mi capitava E tu ti arrabbiavi con me Non mi mandai i tuoi amichetti Io ti giuro che non avevo nessun potere Su queste persone Ti ricordi? Ma Attenzione Ma tu Non avevi Non avevo mod Gli amici tuoi Non mi bannavano gente a caso Se non facevo quello Che vi dicevamo in chat Ok però quelli che ti venivano a chiamare Mi riferisco solo a sta particolare cosa Ti venivano a chiamare E ti dicevano Vieni in live da lui Capitava pure a fare il fantasy modificato Ma Non lo facevamo apposta Ok in senso Ma È un altro discorso Proprio perché Con voi Non mi avete Come posso dire Non tenevo mod Amici vostri Che mi bannavano la gente in chat Ok La gente inutilemente bannata C'è stata Ma non per colpa mia Perché spesso Non potevo nemmeno tenere io Chi volevo in chat da me Se non vi è chiara la situazione No purtroppo Perché amici Io Voglio chiedere una cosa No aspetta Vito Se no Se no è un macello Ma che è successo? No Chi è? Riccardo aspetta un attimo Dai No veramente No io voglio chiedere Solo una cosa wide Wide Tu hai cercato di chiarire con Don Vito Non ne hai intenzione Io Io ho detto di farlo in privato Perché Eh in privato chiedo Sì 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 Perché te l'ho detto pure a te Ti ricordi che ne parlammo ai tempi? Certo Io ti dissi Non voglio fare una live su questa cosa Vi chiarite per favore Privatamente Ma io Solo che qua Sta diventando un problema Perché mo addirittura Il tuo nome Suscita una reazione del genere Non va bene Allora o prendiamo una posizione E non facciamo più venire Don Vito Oppure evitiamo di dir il tuo nome Però Cioè diventiamo matti qui Veramente Che dobbiamo fare? Eh no ma quello che ti dico Marra È che io che Che cosa posso farci? Cioè nel senso Cosa Non ho nessun potere Perché non vi riuscite a chiarire Qual è il problema di base? Si può sapere? Penso di aver capito un pochetto Quello che stava raccontando a Vito Troppo possessivo E voi vi ha odiato per un bel periodo Per fare il lecchino a Riccardo Rosario E poi con Matteo Saba Non parliamo perché Anche con Matteo Saba Lo stavi elogiando E poi l'opo ti aveva detto Guarda che Matteo Saba Ti guardi di là E tu hai detto No non è vero Nel senso Perché ti serviva Per andare contro Riccardo Rosario E non dire di no Ok? Perché so come ragioni tu E so Anche la chat sa Come ragioni tu Caro mio Può cambiare idea comunque Don Vito Ah può cambiare idea Per il content Non perché realmente Cambiati idea Se non lo sai Perché Questo qua Non voleva che io andavi in live da voi Ma doveva andare in live da lui Per fare il teatrino Per andare contro Riccardo Rosario Per fargli fare il content a lui Ma chi cazzo sei? Cioè non ti conosco Eravamo amici Prima che mi offendevi Mentre eri bannato da Twitch Era bannato da Twitch Eh lo dice pure Ti chiedo scusa Per aver fatto quella cosa Che l'ha scritto pure in chat Dopo qualche giorno Che L'ha fatto La cavolata In cui mi dice Eh vabbè Non sapevo Ti dava fastidio Perché Questo tizio qua Era stato bannato su Twitch Due volte Uno per tre giorni E un altro per sette giorni Quando era stato bannato Voleva continuare a stare in chat da me E aveva creato un account Un secondo account Ciò che per rego di Twitch Se sei bannato Non puoi creare altro account E non puoi Soprattutto non dire che sei te Fai una bella figura Non dire che sei te E dici che sei un altro tizio Facciamo una cosa ragazzi Se no qui Ma anche perché sono vicende Passate Lunghe Complesse Che non possiamo conoscere Sarebbe la parola di uno Contro l'altro Ma io dico una cosa Posso anche comprendere Il tuo punto di vista E il fatto che tu non voglia Chiarire con Wilde Quindi È assolutamente legittimo Io voglio Vendetta Mi dispiace però Vabbè Questa è roba che non ci riguarda Io adesso Nel senso buono però Nel senso Per quanto mi riguarda E parla il nome mio Non di tutti Me ne fotto anche Di queste cose Che hai detto su Wilde Alcune Sono certo Il contro flame Alcune sono certo Alcune cose sono certo Siano vere Perché Comunque in passato Ho avuto degli atteggiamenti Un po' ambigui Ma infatti Lo criticammo ai tempi Però al di là di questo È acqua passata Quanto mi riguarda Non me ne frega niente Per me Ti sto dicendo Non me ne frega niente Cerchiamo di andare avanti Se la vostra posizione Rimane questa Ditici cosa dobbiamo fare Cioè Tu non riesci a tollerare Neanche il nome Secondo me È esagerato Cazzo è Voldemort Secondo me è esagerato Se poi ci chiedi Mi avvisate Ad esempio Gentilmente Se in questo evento Sarà presente Wide Così Posso decidere Di non venire Quello va benissimo Io se vengo in bosca Vengo per dei fan Per farmi la foto Perché mi hanno chiesto Poi un po' di fan Vai ai bosca Che io ho già Con il giubbotto di pellet Già lo sappiamo Già è stato messo per iscritto Due giubbotti di pellet Nel senso buoni Vaffanculo Lo accetto Lo accetto Vabbè Vaffanculo Non è che muore Ne offesa Chissà che Ma quella non c'è Per la Vabbè In poche parole Nel senso A parte che verrò Con il giubbotto di pelle E non sto scherzando Io ci verrò ai bosca Non Cioè A parte perché ci sono Tante persone che conosco Ma non per lui Non per il tizio Vabbè Vito mi rispondi La domanda Però Ne puoi rispondere Un attimo Vito Allora Voi potete nominarlo Eh Però se faccio Pellice Si evita di Di parlare Di Vabbè Però Cioè Ok Vabbè Cercherò Oppure cercherò Di non sclerare Però Cerchiamo da entrambe le parti Cioè Se non è strettamente necessario Evitiamo Di nominarlo In tua presenza E tu magari Cerca di contenerti Un attimo Ultima cosa Che voglio dire pure a Wide Poi chiudiamo veramente perché È una cosa che non ha alcun senso Eh Wide Ti chiedo gentilmente Te lo chiedo Poi tu fai quello che vuoi Ovviamente Di evitare Di Fare battute Un certo tipo Su Don Vito Anche in live Che ho sentito Nel corso del tempo Associazioni Non Piacevolissime Anche con condizioni mentali Evita magari Di Memarci Fare Cioè Se possibile Io lo dico Proprio per la tenuta Del gruppo Se così lo vogliamo Chiamare Non ve calcolate più Poi ovviamente Fate quello che vi pare Sono i miei consigli Dimmi che ne pensi Io posso dire Cioè Io sono Esterefatta la situazione Nel senso che Ripeto Io C'è tutto questa cosa qua Io non ho potere Capito Marla Cioè Io non posso fare nulla Cioè Io non parlo di Don Vito Da tempo In realtà A dirla tutta Era già da un periodo Abbastanza lungo Chiedo Non ci calcolavamo Perché io ho cercato Di chiederci tante volte Ma la sua condizione È che io dovevo Prostrarmi sui piedi E non è accettabile E io Siccome Non penso Tu devi chiedere scusa Ma vabbè Ho stato zitto Fino adesso Hai detto tutto Quello che volevi Come al solito Non ho detto tutto Perché tante cose mancano Dai fallo per un attimo Vito qua Veramente non possiamo Farnotte per questa cosa Esatto Finisco velocemente Il ritorno di fiamma Su questa storia C'è stato Il momento in cui Casualmente Io ho preso la partner Abbiamo collaborato Con voi Per la questione di Saba Voi mi avete fatto il ride E della gente È andato a scrivergli In chat E quindi lui Ha sclerato Ed è stata l'occasione Che ho chiamato Sia Simone Che Gianluca Sono Sbaotei Non mi ricordo Comunque vi ha contattati Quindi Non può essere un caso Che a Don Vito Gli è ritornato l'odio Improvvisamente Quando ormai era un periodo Che non mi cagava di strisce Io non cagavo lui Quando io ho preso la partner Quando io ho avuto Che fare con voi Io Ripeto Non voglio neanche fare Tirare le conclusioni Infatti uno più uno due Io mi ricordo Ripeto che in passato Effettivamente era così Poi se nell'ultimo periodo Già Tu sei su questa linea A questo punto Chiedo a Don Vito Evita pure tu Di ributtare in mezzo White Alph Ce la facciamo? Un mese che lo fa Ce la facciamo? Non parlo di Don Vito Perché non ho nessun interesse Ma infatti io prima Io prima Ho detto In passato Mi ricordo Terminate cose Se nel periodo Presente Non è Cioè già non è così Cioè già è così Non lo nomini più Ok Don Vito pure tu Allora evita a questo punto Io appunto Mi preoccupo pure Per tipo i Boss Dove saremo tutti insieme E là Insomma Che tocca fa In quei casi Ma capite ragazzi Il discorso È che io Io non dico nulla Però io È più di un mese Che vengo Nominato come Bullo di Twitch Italia Eh l'abbiamo capito Infatti sto chiedendo Vito Possiamo evitare Possiamo mettere Una pietra sopra A questa cosa Possiamo mettere Una pietra sopra A questa cosa E andare avanti Vito Allora io potrei pure Metterci la pietra sopra Senza problemi Però Se lui Mi dice Queste testo di parole Ti chiedo scusa Don Vito No ma non dico Fate Io non sto dicendo Fate pace Dai Boscare Che ve fa modare Pure il mignolino No ma non Sono imbarazzato Io sono imbarazzato Addirittura tu Tenevi il mio I miei audio Vito Vito Ma ascolti un attimo Vito Per favore Per favore Vito Ma ascolti un attimo Mi puoi ascoltare un attimo Non voglio entrare nella vicenda È una cosa infinita Ti sto chiedendo Una gentilezza Da amico Puoi farmi un favore d'amico Per favore Io non voglio Che voi diventiate Fratello Reciproco Però Puoi evitare Di Buttarlo in mezzo E viceversa Ma White mi ha detto Che già lo sta facendo Puoi farlo per noi Dovevo farlo già da tempo Non da mo Vabbè Mi puoi rispondere Poi se mi dici no E no Io lo accetto Ho capito Un nuovo inizio Possiamo mettere una pietra sopra? Lo faccio solo per te Grazie 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 Sto sempre Ma dai una botta più forte Chitano Con l'immagine Nel senso E su una pietra sopra Ecco Una pietra sopra Un po' più grossa No No Si White Alph Si White Alph Più forte Chitano Più forte Ma su tutte e due Ma su entrambi La devi mettere Se vuoi invitiamo White Alph A Son Son of the Forest E ti diamo un asce Ma non sa nemmeno Che cos'è un gioco Che non sa nemmeno Che cos'è un computer Dai Eh che scatto Allora me lo vedete Dai No no Scusate Vabbè Non tutti sono grandi gamer È vero Io ci metto solo una pietra sopra Solo perché Per rispetto di Marra E del Cerbero Vabbè Grazie Vito Tutti felici Passerò l'amore È durato un po' più di 5 minuti Però siamo arrivati a una conclusione Allora Io dico solo una cosa Scusatemi Che un'altra cosa La chiedono Perché Oltre al fatto Che sono il bullo Di Twitch Italia Ormai È assodato È fattuale Assodato Però basta Anche il fatto Che tu scrivi No no infatti No 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 Scusate Siccome ogni persona Con cui io ho un rapporto Don Vito Gli scrive in privato Cercando di denigrarmi Dirmi No no Di stare attento Perché Di stare attento E questa è un'altra Di Don Vito Ovviamente Nella pietra Cosa bella Nella pietra sopra Mi auguro Sia compreso anche questo No Quello mi auguravo Eh Vito Però qua Sì nel senso Non mi ero più Basta Non scrivo più Però Poi vi ho detto Se fa cavolate E poi vi ho detto Ah avevi ragione Don Vito Poi non venite a dire Ok Don Vito avevi ragione Ma io adesso Non sono entrato neanche Nel merito Cioè io sto semplicemente Dicendo Per la pace Comune Perché si creano Situazioni spiacevoli Senza motivazione Come ieri Cerchiamo di evitare Queste cose qui Poi ovviamente Dovessero succedere Altre cose gravi Ma ho la parola Di entrambi In questo momento Wide ha detto Ho già smesso Tu mi hai detto Ho già smesso Cioè lo smetterò Posso flexere una cosa In live Ma io ne farei volentieri A meno Però se proprio vuoi Anch'io Posso Eh vai 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 Posso far vedere Il torace Senti Butt 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 Buttameli fuori Aspetta un attimo Aspetta un attimo Finiamo il discorso Scusami Perché se no Facci vedere Addominale È quello che volevo fare Va bene Wide Wide Non prepara una musica Aspetta Vai Wide è a posto Per te Ma lo è da tempo Per quanto riguarda Non mi risponde Passivo aggressivo È a posto Per te Sì No Ti assicuro che Non è semplice Vabbè No lo so che non è semplice Però Io lo so che non è semplice Però No ma lo so Perché poi Io lo conosco Vito Che magari dice Sì e poi ricomincia Però Sì 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 No per me sì Io credo nella Credo nella sua parola Sì 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 Anche io dai Anche io Vabbè Ci sono pure dei video Sul mio canale Dove spiego tutto Don Vito Intanto Aspetta Un attimo Ma è cazzo Come una bestia Era carino in sottofondo Se riesce a finire Una cazzo di cosa Era bello Se lui si spogliava Mentre parlavate Vito Ma che sbaglia Vito Dimmi Veramente Mi prometti questa cosa qui Che ti impegni E eviti Di parlare male Di wide A terzi Di parlare male Live Cioè basta Non vi cagate più Cioè non è necessario Nel senso Lo trascini Nessuno Va bene Dai Allora Speriamo Speriamo Sia servito a qualcosa Era un bel momento Di televisione Grazie wide Grazie wide Adesso il flex Prego Aspetta Aspetta Grazie wide Non avrà mai Nemmeno 13 anni Ti liberiamo Pure wide Se sta allenando Wide C'è una bella struttura È bello Muscoloso Madonna mia Anvedivito Inmediabile Che bel mostro Sul palco dei bosca Leccherò gli addomini di Vito Ma manco morto Se sei Penso che redditi Sotto missione No guardi Mi faccio leccare Da una donna Non da te Una lingua È sempre una lingua Vito Ricordo È vero Guarda che poi Ciao wide Ciao ciao Guarda che poi ti piace Vito Vuoi scappare Giustamente Eccoci No per quanto riguarda I progressi Te l'ho detto pure L'altro giorno In privato Sono contento Vi ricomponi Vi aggiungerò Sono contento Dagli eduta È bello Ma sarà nella stessa stanza Ciao Riccardo Ciao Non so se riesco Vabbè Comunque Dagli eduta Pure questa palestra Te prego Don B Cerca pure tu Di regolarti No mi sono rinnovato L'abbonamento Da solo Perché l'estate Sono riuscito A fare qualche lavoretto Sono rinnovato L'abbonamento Da solo Per fortuna No mi sono contento Sì ma ha scritto Il proprietario Sono contento E niente Mo cercherò Di aumentare Il I miei Ma che cazzo Stai a fare Chi t'ha Ma non hai detto Di ricomporti Mo volevo provare Mosaico Sì X Guli E niente A parte questo Spero Poi Più avanti Io la gara di bodybuilding Però i bosker La voglio fare Non so con chi Però la gara Faremo faremo Un evento apposito Come si dice Un exhibition Faremo Faremo Il Cerbero classic Una sfilata Cerbero classic Il Menphysic Eh bravo Sì farebbe Natural C'è sta Oltre virgolette Natural Non è che nessuno Nessuno è natural Tutti natural Anch'io sono Natural E va bene Bodybuilding Chi fa gare Anche Vabbè ma tanto vince Ma vince sicuro Angelo Greco Cioè Vabbè Se voi mettete Angelo Greco Che pesa quasi Il doppio di me Con io che ne ho preso 52 Vabbè ci sono categorie Però Vestia guardate Andrea Chi è Andrea Chi è Andrea Riccardo Riccardo Scusate Andrea Comunque una cosa Che mi sono dimenticato Di dire Nel play Perché stavi tizio E non voglio fare la figura Di quello che si spamma Il 24 Ritorno in live Con Resident Evil 4 Remake 24 cosa 24 marzo E che ne so io Quindi venerdì Ritorno in live Grande Vito Va bene È un bellissimo gioco Allora Grazie ragazzi Adesso abbiamo Altre cose da fare Veramente Don Vito Te lo chiedo Con la mano sul cuore Per l'amor di Dio Non mi fate vedere più Ste scenette inutili Perché Che cazzo serve Una pietra sopra Che non è che poti il bullo Ogni volta che sente il nome Io me lo auguro Mi fido di Vito Cioè vuol dire che non lo puoi più fa Se ci hai messo una pietra sopra L'hai capito questo? Eh sì Però ovviamente Pure voi Un pochettino Evitare pure voi Se ricapita È un placer Tanto un pezzo sia strettamente necessario Nominare Why No Non è meglio Poi se capita Amen Una battutina È tollerata Dai Va bene così Eh ragazzi Che devo fare? Questo posso fare Poi il resto Ripeto Se la vedranno da soli Ma non Basta Non si tornerà più Sull'argomento A quel punto D'Aspo a tutte e due E beh La vedrete da soli Dai Ciao ragazzi Ciao 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 Speriamo bene Finalmente D'Aspo Speriamo bene Allora Dicevamo Fede Rossi Che schifo Torniamo a noi Denuncia sociale Da parte del caro Fede Rossi Che è invitato Nell'evento Cerbero Classico Ovviamente Che comunque Lui ha fatto pure gare Quindi Chi più di lui Ieri sera ho fatto un giro In un locale di Ricciono Hanno tentato di strapparmi dal collo La catenina d'oro Regalatemi da mio padre Non ce l'hanno fatta Perché sono riuscito a prenderla al volo Prima che me la sfilassero dal collo Quindi si è soltanto rotta Se permettetemi Sono svegliato con la vena Un filino polemica Mi girano i coglioni Perché l'Italia Tutela i diritti di tutti Tranne che di noi cittadini italiani Dico questo perché Perché mi sono girato Li ho visti in faccia Questi due pezzi di merda Un marocchino Non so se marocchino o tunisino La faccia era quella E un latino Mezzo mulatto Facevano già finta di niente Ma io li ho visti in pieno Anche perché eravamo in quattro E li abbiamo visti tutti Ora voglio dire Avevo sentito tante volte Parlare di queste robe Praticamente tu passi Te la strappano al volo dal collo Quando ti giri Non li vedi Ripeto Non ce l'hanno fatta Strapparmela Ma è già successo Ad altre centinaia di migliaia di persone Finché non ti capita Non ci credi A me mi girano i coglioni Perché sono andato a chiamare Buttafuori Glieli ho indicati Glielo ho detto Li hanno sbattuti fuori dal locale Ma mi hanno anche detto Sì lo sappiamo Uno dei due lo conosciamo già E allora che cazzo ci fa Questo qui lì dentro Voi potete dirmi Politicamente corretto Il perbenismo Ma ogni volta Che si sente Si legge Di queste robe qui Nove volte su dieci L'articolo inizia sempre con Tunisino Ha tentato di fare questo Sudafricano Entrati in casa Della signora E nigeriano Ha fatto quest'altro E allora Tutti così Vengono tutelati gli italiani Senza censurato Di dire che si stava meglio Tanti anni fa Quando l'Italia era degli italiani E sta di tutte Senti 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 Sta frase Quando ho sentito sta frase Sembrava il meme di Rubino Del padre Del nono di Rubino Stava meglio ai tempi Dei milioni Guzzanti è diventato Senti 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 Infatti Io ho visto sto TikTok Me ci hanno taggato Tra l'altro Non vi rispondo Ma grazie ai ragazzi Che mi taggano sotto I potenziali link Io li vedo tutti Cioè è arrivata sta frase Ho detto no vabbè È fake Cioè E perché Perché due stranieri Gli hanno provato a rubare A catenina d'oro Ma stiamo scherzando Questo collega Il fatto che gli italiani Non sono tutelati E loro sì Perché loro che rubano Beh sì Ebbene un rodimento di culo Vivono tutelati Mamma mia È vero Sembra di essere tornati indietro Tanti anni E stiamo su Facebook Cioè mi ha dato proprio Quelle vibe Tutela gli immigrati E non gli italiani Poi il periodo È quello giusto Tra l'altro Fede Secondo me In posticino Giorgio la te lo trova pure Tipo ministero dello sport Sì Ma poi in che senso Tutelare gli italiani Cioè In che modo Lui doveva essere tutelato In quel momento Doveva essere Doveva scendere un angelo L'unica cosa Se è vero Da parte della discoteca Che nulla a che vedere Con il governo Magari Rendere effettivi I daspo Cioè se Conosci già un personaggio Indipendentemente Dall'etteria No 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 Parlavo del caso specifico Lui ha detto Già lo conosciamo Allora a quel punto Metti un daspo Per le persone Che magari È già beccato Eh ma lì non è un discorso italiano No 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 Ti dicevo infatti Persone moleste Non c'entra nulla L'Italia Intesa come governo Nello specifico La discoteca Magari Rendere Validi I daspo In seguito A che sono risse Furti eccetera Ovviamente Ciò non toglie la possibilità Di rubare comunque Altrove Se sei un lestofante Rimani un lestofante Però La cosa divertente È che lui ha Esteso un'esperienza personale Vera o falsa Comunque Non piacevole Che è regala del padre No ma subire un furto È come tutto il discorso Che ultimamente Sto vedendo In relazione A I sinti Agli zingari Nelle metro Ci sono stati pure i meme Noi viviamo per rubare Questo è il nostro lavoro Lo sappiamo Ovviamente Non si può neanche fare l'apologia Dall'altro punto di vista Perché sono situazioni spiacevoli Il momento in cui ti trovi A doverle affrontare Oppure lo stupido caso Stupido fino a un certo punto Del cane rom Che mi morse Un po' di tempo fa Quella era Ma la gestione Da parte di Chi deve tutelare Le persone Che passano lì Vicino al campo rom E per mesi Hanno lasciato Sti cani Rabbiosi Incustoditi Con pericolo C'entra qualcosa L'etnia? No Semplicemente C'entra il fatto Che sono persone Magari in una condizione Economica E di vita Non agiata E quindi Sono più portati A fare determinate cose Come furto Perché non hanno Magari Altri sbocchi O Semplicemente È responsabilità Individuale Di un criminale Che è criminale Indipendentemente Dalla sua etnia Adesso Da questo discorso Anche banale Cioè Condizioni di povertà È una cosa che viene detta Anche in America Perché c'è più incidenza Di reati Nella comunità black Per un discorso Economico Ovviamente Non è che il giocatore Da NBA In quanto nero Va a rubare Giustamente Al di là di questa cosa Tornare col pippone L'Italia Gli italiani Ai tempi De mi nonno Ste cose Succedevano Una cazzata C'erano comunque I furti Tra italiani Quindi Se fosse stato Un italiano A spilarti La catenella Sarebbe cambiato qualcosa No Sempre un furto Rimane Il mestiere del ladro Ricchi e poveri Ladri Derubati Esistono In ogni contesto Però Immaginate Il tè Di un multiverso Alternativo Davide Che è magari Un truffatore E poi finisce Per lamentarsi Della legge italiana Questa è una bella Difressione Mondo alternativo Ma hai una Malattia Le sopracciglia Ho la psoriasi Sì Se ti interessa Sì Una malattia Quelli che dicono Che lo fanno per cultura No in che senso È molto interessante Che dice che più L'etnia Dipende di che etnia parli Uno ha scritto Gli zingari In chat Ma è un po' generico In certe nazioni Magari Gli animali Vengono trattati In maniera diversa Che da un'altra nazione No sì Dall'etnia Insomma No Dico no Il rubare Sto dicendo Il rubare Non Allora Come fate ad affermare No Se è vero Perché Se no È un pregiudizio Noi italiani Se dice che rubiamo di più La cosa potrebbe essere Cioè stanno pure varie teorie Sul fatto che siamo stati In una nazione Spesso occupata Secondo me All'estero Dicono cose simili Anche dell'italiano C'erano il sangue Certo Diranno che di base Siamo mafiosi Ma il fatto è che Siamo nel sangue Allora secondo me Se vogliamo fare Una live seria In relazione Al discorso Zingaro Sinti Anche cultura Da vagabondo Da itinerante Che si potrebbe anche fare Ma come si deve Perché altrimenti poi Si andrebbe a brutalizzare Un concetto Mettendo nello stesso insieme Tutti Cioè io Quando sento parlare Di persone che commettono Furti Di una determinata etnia Vedo che Sono i Rom Sono i Rom Che rubare È una cazzata Sono stati i rumeni È una cazzata Non vuol dire niente Rom È anche ombrello Come definizione Cioè io tipo Ho un amico Che è Rom Ma è un albanese Medico Quindi David Shaoli Quindi che cazzo C'entra Poi ovviamente Ci sono Delle culture Che in Italia Si sono insediate In un determinato modo Quindi o itineranti O confinate All'interno di questi campi Rom Dove chiaramente Si vive di espedienti E questo purtroppo è evidente Perché Là bisognerebbe parlare Magari con persone Che hanno studiato La storia di queste Comunità Comunque Finiamo qui Che c'è il delirio totale Posso dire Che non mi sento tranquillo Non mi sento sereno Quando esco Perché non posso Farmi vedere Con una collana al collo Perché ci sono Sti pezzi di merda Che vogliono rubartele E possono fare Quello che gli pare Posso O devo essere Censurato Perché ormai Viviamo in un paese Che è tutto così Ti ha censurato Addirittura Se uno ti ruba La catenina d'oro Ti sta censurando Questo è il discorso Alla Matt Carus Non si può più di niente Politicamente corretto Posso dire una cosa Estremamente razzista Ecco ecco C'è un'altra cosa Da italiano Non concepisco E anche perdere troppo tempo Giusto Però è vero che in Italia È una persona Che non ha niente da perdere Non rischia nulla Dal punto di vista giuridico Questo è un altro aspetto Sicuramente È come anche Abbiamo visto Da quelle clip Che vi citavo prima Al servizio Con le zingare Ma anche Alcuni episodi Che stiamo vedendo Con i giustizieri Delle metro Quella è in relazione Alle donne Magari con bambini Al seguito Che vanno Nelle metro Di Milano E di Roma Come borseggiatrice Eccetera Un altro discorso È vero che Molti crimini E molti criminali Rimangono impuniti Quello è un life hack Cioè non avere nulla Essere nulla tenenti C'è chi anche È falsamente Nulla tenente Ah certo Certo Come chi controlla Magari il traffico Di queste persone Cioè ci sono famiglie Di Diciamo Zingari Come Diciamo Etnia Che però sono Ricchissimi Ma non risultano tali E non sono quelli Che vanno a borseggia In metro ovviamente No Però tipo anche un frate È tipo un tenente Potrebbe rubare Chiaro Chiaro È un life hack Guarda veramente Dovrei rinunciare A qualsiasi cosa Che ho E iniziare a fare crimini A diffamare Aspetta però Questo Questo funziona Posso fare quello che voglio Questo funziona In un paese Dove effettivamente La giustizia E la burocrazia Fanno appa Tutte le parti In qualche modo Alternativi No ma Questo discorso In realtà in Italia Esiste Purtroppo Perché abbiamo Giustizia e burocrazia Che fanno cagare In altri paesi No In altri paesi Anche se sei nulla tenente E rubi una mela Capace che te portano Via il braccio Sul serio Quindi Vabbè paesi Incivili Ma anche paesi civili Che te mandano In galera Per Magari Te mandano in galera Ce lo raccontò Pure i visconti No Sì sì Per quel furtarello Lì in mezza Comunque Una notte Argabbio Se è fatta Sì Quindi Nel momento in cui Vedi Che una persona Continua a rubare Vengono registrate Poi ovviamente C'è tutto il problema Legato a Persone che non hanno documenti Sarebbe un discorso infinito Che la giustizia E la burocrazia Facciano acqua Da tutte le parti In Italia È una realtà assoluta E i criminali Si approfittano Di questi vuoti Ovvio Ovvio Anche con una certa Tracotanza Eh ma lo sanno Che rubiamo Che devo fa Certo Ti ostini A disinformare Marra No Vabbè Vorrei sapere dove Io però veramente Vi chiedo Quando scrivete questi commenti Va bene Lo accetto Cioè posso di cazzate Ma spiega dove Quando Perché Non so cosa risponderti Che ti devo dire Riferito a cosa Ok Vabbè Poi ho detto Anche delle banalità Ho detto delle cose Banalissime Senza pensare a cosa Che i tedeschi Oggi tornano Le loro belle città Pulite Invece noi Abbiamo distrutto Un centro storico Fatto da Che dobbiamo pagare Noi italiani Insomma Gli abbiamo dato Una mano A distruggere una città A vandalizzarla Perfetto Tutto questo Per cosa Secondo me Perché siete solo Delle teste di cazzo Però potete venirmi A parlare di fede calcistica Adesso sfogatevi Nei commenti E spiegatemi Come io abbia torto Perché la fede calcistica Vi ha fatto fare queste cose Avete fatto bene a farle Bravi Questa cosa di 100 uomini Non ho capito Perché io Non so che è successo Ho seguito manco io Lo sai La fede calcistica Può far perdere Il lume della ragione A chiunque Il padre tedesca Che non mi ha aspettato Perché i tedeschi Non mi devi chiamare Sai che cazzo è successo A Napoli Comunque Hanno proprio fatto Scappare Avevo visto qualche notizia Però non l'ho linkata Perché ho detto Sì effettivamente C'è che abbiamo Un cazzo di calcio Però mi ha aspettato Cioè questi hanno messo Ferro e fuoco Un quartiere Sono arrivati tutte Camionette Hanno fatto scappare Camionette Ma in realtà Guarda che I pali Si sono caricati Le guardie Guarda che in realtà I tedeschi In Italia Anche in altre occasioni Si sono comportati di merda I tifosi tedeschi Non mi ricordo Se anche in occasione Di un altro Danneggiamento Su un monumento italiano Ah sì La barcaccia Era Germania Non mi ricordo Se erano tedeschi O forse olandesi Però non mi ricordo Sai mi sa olanda Olandesi era quella a Roma Però era successo Un altro episodio allora Di tifosi tedeschi Quelli erano olandesi Ok La barcaccia erano olandesi Vabbè comunque In realtà Le tifoserie A prescindere Dalla nazione di provenienza Spesso Comunque Quando vanno all'estero Fanno Il classico Gioco Senza Il proprietario Nel senso che magari Tipo in Inghilterra Sono severissimi Per quanto riguarda La gestione Dei tifosi All'interno Degli stati Ovviamente dopo i fatti Storici In Italia Anarchia Magari quando vanno In altri paesi Si sfogano Poi ovviamente Bevono come Dei spugni Disastro Crei Eh ma non mi aspettavo Napoli Proprio pure Gli ultras Detto proprio Come sta di lui Nel senso Pure non dico Che sia giusto Però davvero Che anche Gli ultras Del Napoli Gli hanno permesso Di piaffere fuoco La città Vabbè ma non è Che cose Che tengono I napoletani I napoletani Sti in giro In giro per stata Normalissimo Perché Perché ti accodi Perché dici Qua è tollerato Fanno tutti Io passo In secondo piano Sai quante persone Stanno tranquille Poi magari Vai a perdere il derby Del nome Ti chiamano Che vuol dire cosa Che vuol dire Non è solo in Italia Secondo me anche in Inghilterra I hooligans È uguale Sì diciamo che lì Sono molto severi Anche in seguito A quella cosa lì In Inghilterra per esempio Però ecco è successo Che tiposi inglesi All'estero Si comportassero Ma te Purtroppo si sa Che il calcio Porta un sacco De scimmie Non ce la faccio più Cioè 36 minuti 36 minuti Sicuro proprio 36 minuti Si è bagnato pure i capelli Con la Spiderman Riesce a sta 36 minuti Quasi un Guinness Ce l'ho già più Come fai Te tremerebbero talmente Tanto gli arti Penso che te si spezzano Cioè potresti fa Se t'alleni solo per quello Però che cazzo serve Giusto se fai Il Guinness Dei primati Sul serio Ma non ci crederò mai No vabbè Si è paresemente Bagnato i capelli No c'era un'altra Tipo al McDonald's Mi sa che l'hanno bannato Una cazzata Che avevo visto L'altro giorno No non c'è più Vabbè Sti cazzi Comunque questo era E Questo invece È molto importante Non l'ho visto Veniamo E mo che vuole Questo scappato De gas Dammi I pokemon Subito Subito E mbè Quante ne vuoi Dammi I cento Oh Cento pacchetti Ma che sei fiero I big games Ma almeno Ce li hai I sordi Dammi i pacchetti Sono pieno Dei sordi Dammi Mamma mia Bottaci tua Subito Subito Ecco Un attimo Un attimo Ecco Quali vuole Dammi tutti Dammi tutti Sbrigati Sbrigati Che c'è da fa Ecco Ecco Un attimo Un attimo Allora Dario Miccia Ma quindi mo lavora Effettivamente qui Lui È come una cartoleria Grazie 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 Guarda che sono i bambini Che vengono là Guarda quanti Guarda quanti Guarda quanti Guarda quanti Sergio Catena Le game da troppo Più va avanti Le vibes Proprio da It Io lo Come it In che senso Allora A proposito di Napoli Napoli Ambulanza Sirene Spiegate Ma non c'è nessuna Emergenza Porta i tiktoker A una festa Arriva un'ambulanza Sirene spiegate E la folla Fa spazio Non si tratta però Di un'emergenza Sanitaria Perché dal mezzo Di soccorso Scendono gli ospiti Musicali Si tratta di personaggi Di tiktok Intervenuti Ad una festa Evento Per l'inaugurazione Di un negozio A cui ha preso parte Tra gli altri Anche la nota tiktoker Rita De Crescenzo Io ancora Ancora non l'avevo letta No È quell'altra Quella è Zocco Quella è Ornella Zocco Ok E lei è quella Quella che invitano sempre I matrimoni Alle feste Ah sì I matrimoni Diciamo molto Uvili In lockdown Facevano i concerti Nei quartieri Popolari pure Quando erano tutti Chiusi a casa Loro facevano I bagni de folla Esatto Come si chiama Quando rivelano il sesso Invece Oddio Baby shower Eh madonna L'hai mai visti Quelli napoletani De l'avete mai visti Napoletani forse no Come no Madonna Avevi non visti certi Ma stavo a sentire male Che c'è sta quello là Che canta E all'improvviso Gli schioppano dietro Tipo rosa o azzurro Esatto Però fa ride in certi contesti Perché sono talmente esagerati Che c'è sta quello che canta Che all'improvviso E poi Perché gli arriva addosso Tutta roba Ma ne trovate certi Che fanno troppo ride Una tresciata Ovviamente io avevo letto Solo il titolo Ho detto guardiamolo Parliamone un attimo Un secondo prima di legge L'ho detto sicuro Pure Rita De Crescenza Appena ho letto qua Inaugurazione di un negozio Subito A denunciare questa accaduta A Napoli È il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli Borrelli sta sempre in prima linea Quando la denuncia accaduta Che sui suoi profili social Ha condiviso il video Rimarcando la gravità dell'episodio È intervenuta la polizia locale Che ha identificato il titolare E gli ospiti presenti Nelle prossime ore Verrà notificato Un verbale Per impatto acustico Naturalmente Accertamenti sono in corso Anche sull'ambulanza Che non poteva Essere utilizzata Per questi scopi E soprattutto Con queste modalità Vai da un attimo È giusto Ma c'è ragione Ma perché l'ottacca Ma dai ragazzi Ma veramente Cioè Imballare l'ambulanza Per queste cose È follia Esatto Come se io Per venire a un posto Uso un'ambulanza Come fosse un Uber Ma che è una cosa normale Dice il video C'è sta questo Che arriva Che cazzo Lo sto aprendo Non è un'emergenza Arrivo io Dice pure una cosa così Vabbè siamo alla follia Lugnoso Questo? Eh non mi ricordo No Tifosi È Superman No 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 Ma che forse era una storia Ecco questo è quello Che avevamo citato prima Ieri Taranto No 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 Ecco l'ecco Influencer Influencer che arriva Alla festa All'inaugurazione Di un negozio A bordo di un'ambulanza Fate spazio Fate spazio Siamo venuti a cagare l'ambulanza Ma che c'è stata un'emergenza No Nessuna emergenza Siamo nel centro di Napoli Un'ambulanza arriva a sirene spiegate Si ferma Davanti a un negozio Non per soccorrere qualcuno Che si è sentito male Dal mezzo Non scendono medici o infermieri Ma un influencer Accolto dalla folla E dalla musica a tutto volume Invitato all'inaugurazione Di un nuovo esercizio commerciale Siamo venuti a cagare Con l'ambulanza Ma che c'è stata un'emergenza Questa è per te Come può fare concorrenza Insomma Un'ambulanza usata come taxi A immortalare la scena Diversi video Finiti subito sui social Era fatto apposta Per marcha Non so scherzare È tipo la cafonata Maxima questa Affittiamo questa idea Affittiamo un'ambulanza Secondo me Non poteva accadere ovunque No No Indubbiamente no Ma fino a Salerno No più che altro Dico Cioè nel senso L'hanno fatto appositamente Per creare Scalpore Per far sto meme Dell'emergenza Perché Cioè gli è venuto in mente Come possiamo arrivare All'altra Un'emergenza Affitti Affitti una macchina Caudista Eh ma è per farne parlare Secondo me Quello penso Qual è la differenza Per marketing anche Ma non rendendosi conto Della gravità Della cosa Soprattutto la mia domanda è Chi è che ha detto sì Cioè non è Chi è che è stato corrotto Eh non è la follia Nella proposta Che dici vabbè De cazzate Ne sentiamo tante E' quello che ha detto Bah sì dai Ve la prestamo St'ambulanza Oppure Cioè Trovatemi uno Che se fa un'ambulanza Finta Capito Chi è che costruisce Un'ambulanza Finta Ci sono Cioè magari Non è finta Diciamo che Loro stavano a Napoli No? E' venuto a Napoli Sì Quindi anche una città Con un traffico Di un certo tipo Con una richiesta Di un certo tipo Cioè non è la cittadina Dove magari Ci sono Determinate ambulanze Ne affitti una Ok Cosa che poi Non so se si possa fare Ne affitti una Le ambulanze private Si possono prenotare Eh appunto Stavo dicendo Ne affitti una E le altre Magari rimangono Comunque disponibili Cioè comunque Napoli E' una città Complessa Anche difficile Dal punto di vista Del traffico Quindi Non lo so Prelevare Un mezzo Di servizio Servono Poi le puoi affittare Però L'ambulanza privata Cioè per farti I cazzi tuoi No le puoi affittare Ma poi con le sirene Accese No le puoi affittare Per qualcosa Di sanitario Ma certo Mica per farti I cazzi tu Ma in che mondo Le liberali di merda Non è che me l'affitto Per affangire un centro Ma non è solo Il trasporto Il fatto tu fai pure Con le sirene spiegate Vai Ma quelle statali Come private Mezzo il traffico Che le sirene spiegate La puoi affittare Che ne so Se io dico Sto incinta Vuoi andare prima In ospedale Anche se ancora Non mi sono rotte le acque L'affitto E mi preparo Sto tragitto Oppure devo andare Per un accertamento Particolare Però non penso Che tu possa affittarla Per farti il giretto Panoramico A Napoli Per portarti ai locali Tra l'altro Anche con le sirene No? Credo Certo Sì Ovvio Hanno usato le sirene Per evitare il traffico Mi sembra che l'ha detto Quella del TG Se lo dice La tizia Non lo so Tutta sta cosa Per i film Per i film Devono chiudere le strade Per i film ci sono dei permessi appositi Quella è un'altra cosa Esatto Ci sono dei permessi Ma anche per i videoclip Ci sono dei permessi appositi Devi fare richiesta No Per andana festa Devi fare richiesta Devi fare richiesta anche Per il territorio Per affittare quella parte lì In un determinato Un determinato Orario Per chiudere anche la strada Ma questo avviene anche Banalmente per scaricare Delle merci Sul suolo pubblico Tipo noi adesso Per i Boscar Abbiamo delle cose da trasportare Per il service E la zona Vicina al Teatro Odeon È pubblica È un suolo pubblico E stiamo facendo la richiesta Al comune di Milano Per affittarla In una determinata Fascia oraria Per scaricare attrezzature E cose del genere E questo vale A maggior ragione Se vuoi affittare Un'ambulanza Che ne so Una nave Di una Forza dell'ordine Della marina Che cazzo Ha fatto volontariato Tanti anni Sulle ambulanze Possono essere affittate Se l'associazione Le rende disponibili Scusate un attimo È importante Le rende disponibili Ma le sirene Si possono usare Solo per i codici rossi Altrimenti va nel penale È certo perché Vai a modificare Anche il Il traffico È ovvio È certo E tutti gli altri geni Ambulanza privata Non parlano più Ma poi in casi Tipo quando crei un evento Ci stanno eventi sportivi Ci stanno Un pubblico Te magari devi pure pagare E poi affittarla Però in quei casi È una cosa comunque sanitaria E non è che costa Una cifra estrema Cioè sta là Un presidio medico Per sicurezza Stanno la ferma Certo Negli eventi Ma la roba delle sirene Ragazzi dai Intuibile In quel caso Costa poco Se te privatamente Ti serve un'ambulanza Pure per fare una cosa medica Se sei in un ospedale privato Costa un botto Comunque Si sono procurato allarme Effettivamente Perché allarmi Ma certo Tu stai con le sirene Spiegate E L'ambulanza pubblica In un ospedale pubblico Si riconosce Questo non lo so Può essere pure Però Non mi fido particolarmente Del TG5 Però Nel senso Tu non puoi accendere le sirene Ovviamente Nel mezzo di Napoli Che è una città Devastante Anche dal punto di vista Del traffico Ovviamente tutti quanti Devono adeguarsi A questa cosa Quindi si spostano Per farti passare Rischi anche Di mettere Arrepentaglio Il traffico Canonico Della giornata Per la festa De rida De crescenzo Per l'inaugurazione Del locale Cioè Siamo veramente Alla follia Ma comunque Sembravano pubblica Almeno Questo non lo so Questo non lo so Questo non lo so Bordo dell'ambulanza Altri all'arrivo a destinazione Una notizia che suscita Non poche polemiche Soprattutto Tra il personale Del 118 Identificata l'ambulanza L'autista è stato contestato All'uso improprio Del mezzo di soccorso Per lui 87 euro di multa L'avranno convinto Era un autista Di ambulanza Ma è un piacere Ma io le davo un onore No vabbè Uno dice Vabbè Massimo da la multa Che mi possono fare Che ne so 200 euro Te ne diamo mille Non hai capito Ma a me che cazzo Me ne frega Ma comunque 87 euro 87 euro Gli hanno cambiato la vita Quindi manco penale Cioè così Una multa Mamma mia C'è sanzionato Per aver organizzato Uno spettacolo Senza autorizzazioni Dovrà pagarne mille A denunciare l'episodio Il deputato Francesco Emilio Borrelli Che si dice Sempre più allibito Di quello che accade In questa città Certa gente Scrive Pensa di poter fare Ciò che le pare Mamma mia Le comiche Poi se te ne danno Mille a nero Davvero Te conviene Questa è la definizione Di tragicomico Sì davvero Chiudiamo con una notizia Basta con Joa e Asterischi Eppure Se possibile Alla duplicazione Dei generi Care italiane E cari italiani La Crusca Smonta il Politically Correct Ma sono dei maschi Bianchi etero Questi della Crusca Ma che cazzo Capiscono I linguisti Bocciano il ricorso A segni grafici Più inclusivi Linguisti Ma che so Questi Dei lingus Ma quanta percentuale Di donne C'è all'interno Della Crusca Invitano ad usare Più spesso Il plurale femminile Vediamo Vediamo È difficile È solo Da legge Rispondendo A un quesito Del comitato Pari opportunità Della corte Di cassazione Sulla scrittura Negli atti giudiziari L'accademia Della Crusca Esce allo scoperto E dice la sua Sul dibattito Politico-linguistico Che divide il paese Tra chi vuole Innovare la lingua Per depurarla Dal recondito Retaggio maschilista Con proposte fonetiche E grammaticali Più o meno Azzardate E chi non vuole Distorcerla La Crusca La Crusca Propende Decisamente Per la linea Conservativa Con motivazioni Puntigliose I principi Ispiratori Dell'ideologia Legata al linguaggio Di genere E alle correzioni Delle presunte Storture Della lingua Tradizionale Non vanno Sovravalutati Perché sono in parte Frutto di una Radicalizzazione Legata A mode Culturali Mode Ma come si permettono Questi vecchi Di merda C'eravamo arrivati Nel 2018 Però Ma io tardi che mai Va dunque escluso Tassativamente L'asterisco Al posto Delle desinenze Dotate di valore Morfologico Car Amic Tut Quello Che riceveranno Questo messaggio Lo stesso vale Per lo Cheva Obiettivi Colpiti Affondati Dall'altro lato Oddio Già ho visto Un commento Lo sapevo Dall'altro Lato Per garantire La rappresentatività Di genere La Crusca Raccomanda Di far ricorso In modo Sempre più esteso Ai nomi Di professione Declinati al femminile Come architetta Sindaca Magistrata Architetta Bellissimo Siete pronti Ragazzi Chi è secondo voi No Adrian No No Cimder No Cosa Il disegnatore No Sio No Un saluto Tutti Non l'avevo letto Io ho visto solo L'immagine di Matt Carus Ha detto un saluto A tutti Ma ha fregato Un saluto A tutti Tutti e tutte Avrà fatto un Cam tribute Su quest'articolo Un saluto A tutti Grande Possiamo gioire Ah perché parla Al maschile Abbiamo vinto Sì Abbiamo vinto Tutti Tutti e tutto Il patriarcato Non morirà mai Ma no Non è questo Sì è questo Simone Sotto sotto è questo Io sto con Matt Carus Ragazzi E però ricorda Che il mondo L'hanno rovinato Quelli che ha giacca E la gravatta Non fate lo sfuggire Questo Quando uno usa la shwa Davanti a voi Ridetegli in faccia E capirà Quando un uomo Con lo shwa Incontra un uomo senza L'uomo senza shwa Gli ride in faccia E l'uomo muore Mi piace Mi piace Oppure quando Un uomo con una shwa Incontra Un uomo con una shwa Stic Ciao Che squali Stai arrivà E lo Croce Stai Stai pure registrando Tutti al bagno, come ti fatti?